È giunto il momento di parlare di My First Film Il primo film di... No, di nessuno Dilla Anger Dillo, perché ha un nome glorioso È il suo primo film Aspetta, c'è una storia Allora, innanzitutto ricordiamo che vi aspettiamo venerdì 4 ottobre alle 21.30 Al Cinema Beltrade di Milano Perché ci saranno tre di queste quattro voci che sentite Poi se frec tu vuoi venire anche tu a farci compagnia Facciamo sorpresa, facciamo sorpresa Perché lo presentiamo in occasione del lancio del... Noam a Faenza Film Festival Voi direte perché a Milano? Perché lo lanciamo ovunque Perché è capillare No, è un festival a cui lavoro, sono selezionatore Noam sta per North American E nel progetto mio e del mio carissimo amico e collega Direttore artistico Andrea Valmori che saluto tanto È l'idea di portare una Sundance in Italia E ci stiamo lavorando da un paio d'anni Abbiamo fatto una prima edizione Abbiamo fatto un'edizione un po' troncata Perché è difficile portare avanti un festival Figuratevi una città che comunque sta avvendo dei problemi Dal punto di vista dei disastri ambientali Quindi su questo argomento non mi soffermo E comunque proviamo sempre a portare una bella proposta E a fare tante belle collaborazioni Tra queste è nata una collaborazione con Mubi Italia Che ci dà l'opportunità di portare In anteprima a Milano E poi a Faenza Seconda battuta Dal 23 al 27 ottobre sarà il festival Per chi fosse dalle parti della Romagna Vuole fare un salto, salutarci E a vedere dei bei film Portiamo questo My First Film Che è già in catalogo Potete vederlo anche in streaming E dico una cosa che potevo far finta Per mandarvi al cinema Ma venite a vederlo al cinema Perché è un'opera veramente molto bella E molto coraggiosa Ed è una semiopera prima Perché adesso cominciamo ad aprire la Matrioska Che è un casino però Zia Enger Zia Enger Che ha un nome troppo bello da dire Potrei dire Auntie Enger potrebbe essere Zia Enger Zia Enger Zia Enger Zia Enger ha fatto questo film Tra amici Che ha dovuto interrompere È andato male E cosa ha fatto Prese ispirazione Della frustrazione Di questa brutta esperienza Il tipo di esperienza che vi è Poi ve lo lascio scoprire Guardando il film In sala Se siete a Milano Se non volete venire al cinema Potete trovarlo su streaming Su Mubi Ed è un buono motivo Anche per farvi un account Mubi Che comunque Se è stato selezionato da Mubi Chiaramente È anche prodotto Da Mubi Anche prodotto Quindi insomma Cioè Mubi non è che Sceglie a casa Finisco un attimo La lord della cosa Prende Questo suo Primo Fallimento Diciamo Per motivi personali Problemi sul set Eccetera E crea una performance Che porta In giro In diversi cinema Anche gallerie In cui Lei Presa la suggestione Apre il suo Mac Proiettato sullo schermo Apre il blocco note E scrive degli appunti In diretta E presa delle suggestioni Anche del pubblico Del flusso di coscienza Apri internet Fa delle ricerche Proietta Spezzoni del film E li commenta In diretta Cioè lascia che la cosa Lascia che il suo film Viva In dialogo Anche con gli spettatori Fu una specie di cinema Espanso Per usare un termine In tempo reale Che andava di moda Dai tempi del cinema Underground Anni 60 In tempo reale Di questo film Di questo esperimento E poi Sopravvissuto un film Proprio da Da proiettare Insomma che è passato In alcuni cinema De sé Soprattutto Negli Stati Uniti Ma La cosa bella È che adesso Dopo 8 anni Ha adattato Questa sua stessa cosa Quindi My first film Che ormai non è più first Ma è effettivamente Il suo primo film Di lungometraggio Vero Prende da questa esperienza Prende da tutta La parte che ha fatto Di sperimentazione Prende dal suo primo film Lei nel film È interpretata Si chiama Vita Nel film È interpretata Da Odessa Young Attrice È veramente molto brava E finalmente Crea un'opera In cui racconta Questa cosa Pur inserendo sempre Il suo flusso di coscienza È un film Molto particolare Non ne vedrete Di simili E soprattutto Se siete Dei giovani filmmaker Per esempio Prima il ragazzo Che sta per iniziare La civica Guardatevi un film Del genere Perché Per chi Io sento Che conosco Molta gente Che ha fatto cinema Ci ha provato Per chi vuole Approcciarsi a questa cosa Secondo me Va a toccare Dei tasti Che saranno Familiari A molte A molte persone E è un film Che anche se non Avessi avuto In programmazione Avrei portato Al podcast Per dargli La giusta luce Perché è un film Veramente molto bello E E Brava Mubi Anche a Crederci E a Produrre Quella che è Un po' Una chiusura del cerchio Credo per questa Fantastica artista Di cui sono curioso Di vedere Cosa ci risalva Il futuro Io personalmente L'ho adorato Piaciuta tantissimo Odessa Young Che riesce Incredibilmente A dare corpo e voce A quello che è L'alter ego Della regista Mi è piaciuta tanto Anche Devon Ross Che fa L'attrice Del film Nel film Amica Della regista E come ha detto Marco E' una sorta di pastisce Perché c'è veramente Di tutto Gioca anche con i formati Gioca Con il sonoro Con il montaggio E' un accumulo A un certo punto Ti rendi conto Che è un accumulo Di situazioni D'eventi E di immagini E questi eventi Nel corso del film Continuano a tornare Ma cambiando di senso Rispetto a quello Che hai vissuto Fino a quel momento A un certo punto Ti arrivano un paio Di schiaffi in faccia Uno dopo l'altro Che non ti aspetti Però è fresco Che vitale E' entusiasta Come film Nonostante alcune cose Pesantissime Ma riesce a portarle avanti Con questa Con questa naturalezza E con un'impronta Personale Della regista Fortissima Cioè il primo film Che vedevo di lei Ha uno stile Ultra Evidente E infatti sono molto curioso Di vedere cosa farà Con il secondo Quando dovrà Un attimino Smarcarsi Dall'autobiografia No? E come diceva Marco Io sono uno di quelli Che tanti tanti anni fa Ha fatto un po' Di cinema indipendente Milanese Con anche Qualche fortuna Tra l'altro Mi sono rivisto tanto Perché comunque Nella storia C'è la troupe C'è il fonico C'è la direttore Della fotografia C'è l'attrice C'è il producer E le vedi quelle cose Sono cose che Chi ha provato a fare Almeno una volta Un film con gli amici Ci si ritrova Ma non è Non rimane Secondo me Limitato a quello Apre un po' a Quando fai qualcosa Con un gruppo A cui vuoi bene Cioè il discorso Si amplia Posso dire una cosa È un po' un Boris Alla Malik Insomma Parti Veramente non assomiglia A nient'altro Sto sparando Le cose Però È molto anche Ti riconosci In quelle situazioni Ma è anche un film Estremamente Sulipsista Cioè è proprio un film Che è fatto Da quella persona E con quell'esperienza E proprio perché Quell'esperienza È legata A un ambiente Ben riconoscibile Diventa Cioè parte dal singolare Diventa universale Ed è un passaggio Che non a tutti I film Riesce di fare A questo secondo me Riesce benissimo E non vedo l'ora Insomma che Più persone lo guardano Io non vedo l'ora Di vederlo sul grande schermo Dopo averlo visto Sul piccolo schermo Come viene detto Più volte nel film È una storia Tutta vera Tranne Tranne Quindi questo è My first film Che trovate anche su Mubi Quindi su Piattaforma Oppure Oppure Al Noam Faenza Film Festival Dal 23 al 27 ottobre In Romagna Volete viaggiare Per vedere il nostro festival Portiamo ben set Tante prime italiane Quindi ce n'è di roba Il programma Lo trovate sul sito Noamfestival.it Quindi Sì andate a documentarvi Perché è un festival Fichissimo Possiamo dirlo Che ci saremo anche io E Paolo Dovremo tenere lo segreto Fino alla fine Ci saremo anche noi Quindi Soprattutto al Noam Venite Così potremo fare due chiacchiere Incontrarci Vedere dei bei film Parlare Insomma Goderci La vita da cinefili E da festival Che bello Che bello Quindi I cinofili E daому Che bello Che bello Che bello